Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Se non siamo iniziati, siamo totalmente morti. Sì, non è vero. La scuola è vero. La scuola è vero. È vero. PBL è più facile Oh no Bro that was hard What do you mean Bro that was hard to catch that dude Frickin Lamar holding me back bro Lamar holding me Ain't no way Ain't no way I love you I got it Rig? 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 Nice Rig 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 Ma... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Non ce n'è? 8, 6, 8, 6, 8, 8, 9. Oc які, 8, 9, 10. Occhio, 8, 9, 10. Occhio! E' come? Ma non si serve? Perché il diranno questo Come vabbiamo E' stia C'è questa volta il cuore di noce C'è questa volta in Montaglia? Ma vabbiamo No A me vabbiamo A me vabbiamo E' stuera Non si fa Non mi piaceva. Ci sono un'unico che è un'unico. Ci sono un'unico che è un'unico. Ci sono un'unico che è un'unico. Il suo lavoro di lui, Sì Sì, che ci sono tutti i nostri. Sì, che ci sono tutti i nostri. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, è stato un bel giro. Il corroma è un bel giro. È stato un bel giro. Il corroma è un'altra cosa. Il corroma è un'altra cosa che è un'altra cosa. Ok, quindi per favore, per favore, per favore, per favore, per favore. non è così non è così cosa che si freddo è l'ulto è è è è Assolutamente Sì. Sì. O, oggi è il nostro buono? Sì. 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 Let's go! Piro Piro, questo è chi è? Maa-kun? Maa-kun? 4億 maa! E? Quattro c'è stato? 2億 4,000,000,000,000 E? Non è vero. Ok! Viagrapposti! Noi! E? 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 Oh, I'm sorry, I think I'm, I'm sorry, I'm sorry, ma'am I didn't see you Shooter shooter future grazie esti artifacte no cânion perché anche forse 4人で成功させてくれ 頼文 artifacte no één 連続で 例えば全部混verteなんか確定 c あのっ a artiotaの神をどうかどうかだのう イヤンばいの警察が来ていいやん映えの 犯罪ができたら嬉しいです Sì 7月なんだ6月じゃなくてですしがチキッとしてもあげるだろう 来月をやるん はいもしもし デジさん多い 4人ではい マーティファクトです ブーブー リュック4人アーティファクトで行くんで もう全員中ですよねそうなるよねもうだっ ぶっ 多分まあまあまあそこら辺はもうあのフリーダムに行く感じで ああ だからあの 準備をして ねえっと 愛戦これ対戦豪邸でいいですか豪邸でいいか あかんゴーテイシュウゴでいいですか OKOK 高手シュウゴル コロナマエアルソウ 0.3% r.'sode re go Frye do re e r. re All right, first of all, watch your fucking mouth, number one, all right, buddy? And you got in my fucking way, so just be careful with yourself, all right? You fucking ran me, man. Listen, listen, what'd I say? Watch your fucking mouth before you get fucking robbed. Do you hear me, buddy? Do you hear me? All right, show the fuck out, man. Actually, say you're fucking sorry. Say you're fucking sorry. Hey, say you're fucking sorry. Put your fucking hands up, right now. Put your fucking hands up. Stop fucking around. Put your fucking now. Say you... What the fuck is wrong with both of you? Some fucking bitch. Fuck you. What's happening here, bro? What's happening? Yeah, DJ-san, I'm going to enter this room. I'm going to enter this room. Oh, here's the place. Hold on. Hold on. Hold on. I'm going to enter this room? What are you doing? che questo è un po' di un po' di il 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 . . Spera si è il caso. Ma se è il caso che all in e lo farò. Ma sono in più spese che si è un'unità più forte. Il caso che è il caso che sia il caso che sia il caso. Il caso che sia il caso che sia il caso. Il caso di più, ma è il caso che sia il caso. Stoglar è stato un po' di farlo, è stato molto importante La squadra è stata molto grande, è stato un po' di farlo Ma non è stato un po' di farlo, è stato un po' di farlo E' stato un po' di farlo, è stato un po' di farlo tutti i so amma じゃあったさんみたいな magoa ne parisian magoi 塚は自分で作らないといけない natea 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 oしかして 3ヶ月後にちみなさんも僕 a Ehi, let's go. That was part of my plan. That was not part of my plan. Bro. Ehi, o tu nari-san boss d'attam da. Ehi, o tu nari-san boss d'attam da. Ehi, o tu nari-san boss d'attam da.